GAMES BROTHERS Gli armadietti Inventario pieno Siamo ricchi in una maniera Siamo ultra ricchi ancora Cure semplini ragazzi Troppo facile questo gioco vero? Non credo Eeeh Stravisto Attenzione le gambe Fantastico Ok bene Attento a questa Cut of their limbs Potevi fare una nubata alla zamba Però Vieni qua Oh Basta Ok Ok buono Vabbè Caratti questi I tifanetti non buoni qua Non ti piacerebbe tipo lavorare In questi C'è mi fatto notare anche un nostro iscritto Seleziona A proposito di lavoro Libero di un paio di cura che quando siamo pieni Cosa sto facendo Che effettivamente il nostro isaac clark protagonista Nella sua vita è un ingegnere spaziale Nella sua vita ha fatto tutt'altro che il suo lavoro Beh Se ci pensi In tutti e tre episodi È diventato E soprattutto è diventato un mito per noi E soprattutto è senza gnocca Gli è morto l'unica che aveva Poi l'ho sfigata Sono morti Cerca di allontanarti dalla città Non scappare dalla città che è stata Sì Perché mi stavo abbastanza su Stiamo Stiamo cooperando Oddio Ehi Ehi una presenza umana No è morta Morto No 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 è vivo È morto Sta morendo È morto Oh ragazzi No ci sono Oh ragazzi No 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 vieni qui Sei un grande Hai giocato a calcio con quello lì che Questo è spento Eh navigatore Ah Yes Le casse però Guarda un po' Mi stava dimenticando Yep Yes Ehi ragazzuoli Per me è stato È arrivato Isaac C'è Mancava una maglietta nuova E anche il cappellino Oh Per fare i trucsi Per fare i trendi Prego prendi il cappellino Voglio il cappellino Voglio il cappellino Che Sto bastardo Ti ha fatto i baffi Sfigurato No solo da una parte Così siamo Ok uno E due Due Va che bene Ok È un po' diventato tipo rossetto e nero Lotte massima Chiiii Spandiamo Ok Permesso Oh bravo Eh Ciao È sparito È super veloce Vieni qua Ben Inizia Come stanno le tue gambe ora E adesso Ehi 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 Cosa fa Ehi 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 Fai piano Guarda questi come li ho seccati Ehi C'è Uh Ma si può Troll Ma si può Troll Come si fa Or Anh Is Ah Ah È un altra Nadio Eh Stai delirando Non ci capisco più una cifra Ok Ok, aspetta, 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 aspetta Boom, una gamba in bocca E invece niente Headshot bitch, ma non serve un cacchio contro i loro headshot bitch Oh, ok Bene Anche se mi sono sempre chiesto, se mi mostri la testa come vanno avanti e come ti sentono Però, vabbè Come avverso non ho la tua presenza Secondo me c'hanno tipo le orecchie nelle mani Orecchie in culo, vabbè, buono Ma secondo me Oh, lele, l'hai richiamato La spina dorsale triplicata Bene Che schifo Sono adabile Però ne sono fatti bene Sì, sono fatti molto bene Giù, ragazzuoli Oh, che si No No Un'altra gnocca che poteva fare Mi sono fatti da fuori, me lo devo stare No 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 Solo perché tu non puoi averne una, non devi farmi fuori quelle che mi rimangono Oh no Oh, che si viste, no Oh mio Dio Ma gli ossa ti è brutto Che schifo Ma che bello Ok Ok, proseguiamo Ragazzi siete bellissimi Quando rimanete così da morti Come si riproducono questi? Un pochino di me, secondo me non si riproducono questi Perché si stavano muovendo quegli arti? Eh sì Nessun treno Questo cos'è? Com'è? Nessun treno Questo è un treno? Non mi parla, non mi vado di vedere E invece? Attenzione Oh Wow Super power Ah, però ci sono le aste di No, proprio Però qui no Yeah Sì Attenzione Adesso cosa fai? Non so cosa lo sto facendo Banging Sì Cosa? Cosa? Ah, è una pedana rotante Adesso puoi andare da quella parte Quindi lo spingi dall'altra parte Vai dall'altra parte E poi lo spingi dall'altra Mi sembra giusto Se c'è E come venimo non ci sarà Esattamente E infatti non c'è ragazzi Esatto Però posso Spostarlo Sì Sì, eccolo Sì Così Vai bene Vai bene Vai Vai bene Sì Sì Cosa sta succedendo? Ci sono un po' di armadietti qui Allora Munizioni 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 E kit Tu intanto Fai un salto di qua Voilà Ecco Vai verso lì Intanto Che io mi apro Gli armadietti L'ultimo qua Buone munizioni No Stasi che ho sapieno Vai Continua Non abbiamo finito Non so Prendere la stasi Dall'altra parte Non lo so Le magie di trombone Eh beh Ragazzi Trombone Cosa sto facendo? Ho fatto qualcosa Non ho capito Penso di aver fatto qualcosa Hai attivato quella Sì I like trains Ti piacciono i treni? Salta su Dai Salta No 3 euro Dove? Non c'è più No Ecco Va qua Vagone Non te l'hai 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 Invornito Eh dai Beh però Ah qui dietro Sì Guarda la pedana Sì dai Permesso Like bash E io ci scommendo quello che vuoi che avevo preso un treno infestato Cos'è successo Niente Che non si può passare Anche perché se no abbiamo fatto tipo dei gesti troppo da costume Da ingegnere Da ingegnere Si è messo a girare i treni con la forza della stasi No quella è telecinesi Telecinesi Uh Ragazzi si pronuncia un viaggio movimentato Allacciate le cinture di sicurezza Wow 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 Tassion Tassion Scalette Scalette Vai bene Di A Cori Drift Wow 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 Che strans Aspetta Che è strans Che è strans È diventato action Oddio Tramba Boom Headshot Bitch Bellissimo E andiamo È diventato action Non si crede Cosa è successo Eh prima ho capito l'abbastanza action Ma L'ho letto nelle recensioni Oh no No troppo Oh ti ho preso Ti ho preso ancora No Eh si Dai ci sono Mike boss Giù beh Via giù dalla scaletta That's my way Yeah Ma dove stiamo andando No lo so Dove stiamo andando Abbiamo perso metà vagone Però forza E soprattutto perché queste persone Si sono fatte girare e trasportare da noi Senza dire niente E adesso ci stanno sparando Oh no Non ne ho idea Oh Sono venuto a prendermi Corri Bell Corri Bell Corri Sì Attento Oh Dio Le gambe Le lasciamo a terra Dai aiutami Devi senti Dai Su Ah premie 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 Era l'allentatore Adesso ti prego Andiamocene Iper spazio Yes Molto Molto guerra L'audio è bello No quello è Indiana Jones Però fa lo stesso Eh beh ci sta Beh è abbastanza etica Oh bello Adormentato Sì Buongiorno Ben svegliato È stato un viaggio movimentato Bisogna dirlo È un po' È un figo Lui era un figo Chi è? Infatti Le figure di me Sì Beh E quanti anni ha Immaginato la ragazza Quanti anni ha È morto Grazie Alla prossima impegna Tu Eh sì Beh però Mi stavo già impegnando Dai Trombone Oh no Come ti permetti Io sono il primo youtuber di Ferrara Come ti permetti Cioè io pretendo di spezzo Oh no Via Stavo pensando Una volta che entri in discoteca Io dove entrare prima degli altri Prima degli altri E a gratis Sono il primo youtuber di Ferrara Ma neanche grato Però vorrei saltare la fira Quanto meno E portare i miei amici con me E poi saltare la fira con me Bravo Che cacchio Cioè Ma che bella sta navicendo Dei vantaggi Sì Fa molto Star Trek Salve ragazzi Ah navigatore Sto andando alla palla giusta Sì buono Sì dai Ma anche su Buona ragazzi Andiamo E tipo di qua Va bene Bang E quindi cosa si fa Il gioco finisce qui ragazzi Purtroppo Finite il video ragazzi Si mi sa tanto di filmato Sì vero Wow Grande Mi ricordo che comunque Al momento la missione di Isaac È ritrovare La ragazza Quale è il nome Non me lo ricordo Dead Space 2 Di cui lui si è Passamente innamorato Secondo me Ovvio Perché sennò come la Perché la Tu sennò perché la vai a cercare Di per star Oddio Carissima amica Eh Assolutamente Che è questa La morte nera La morte nera Ma quello che ne rimane No Ma che pilota pro Like bash Che pilota pro Diventata la formula 1 Questo posto è un rottamaio E cosa si sogna fare Mi piace il doppio C'è la nave di all'ultima Strafatto E lì ecco Rilevo diversi trasmettitori Ma non sono Quella è tipo un residuo Di una navetta Tutta un residuo Sì Mi sa proprio di sì Coloni sorane Avrebbero più di 200 anni Aia Dica È un SOS Dai È lei Ah eccola là L'ho visto Sì Speriamo È lei Va che bella Via dritto Ti può giocare No eh Che è che Ombre dietro di noi Oh no Via 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 Si preannuncia Via Via Un altro viaggio Molto movimentato No 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 Non ci sta per niente Eh sì I ventri bucati nello spazio Possono essere un problema Pronto Pronto Potrebbe esserci Teniti Attenzione Corri Corri Aaaaa Che non eri lì dentro Sta ballando la tarantella Guarda Anche lui Si Yeah On Spaccano Yeah Io, io, io Ma te lo da quella parte Corri Eccolo Yeah, yeah Yeah, rappando, yeah Una mina in faccia Questo è un problema Questo, oddio, troppo un problema questo Questo è molto Attacchati quel dildo Vedi, rappare nello spazio fa male Ha perso la voce Sì, sì, sì Oddio Non riesco a capire più dove siamo Corri Corri, bello, la mia energia La mia energia, la mia salute Tutti i telemini La mia salute, bello La mia salute Che gesto che ha fatto Eh, la tuta La tuta Vai Subito Subito E lui riesce a mettersene in questa trammosa Sì, prima va la tarantella L'ha messa Ed è molto più facile mettersi un indumento mentre si va la tarantella Se si riesca a un altro raggio nello spazio Lui può È morto No, è vivo No, è vivo Eccolo È vivo Che master Il casco, bello Il casco Andare, c'è il casco E auguri Intanto non si sa come sta facendo a respirare Volo Yes Yes Oddio, dove devo andare Oh Oh Cosa Cos'è, cosa è successo Vabbè, non lo so Dove devo andare Dove devo andare Dove è che tu devi andare Beh, sono bloccato Sei tipo Sì Dai dall'altra parte Vai No No Che Che si fa ora Cos'è quella cosa Stasi lì Stasi lì Fai qualcosa No Cos'è All right È diventato di meglio Delle montagne russe Salvataggio Cristo È fatto Vola Oddio Oh Oh Che figata Oddio Oddio Le mine Oddio Le mine Sono anche le mine Vabbè, aiuto Che cos'è Non ci Oh, Matrix Time Yes All right Attenzione alla lamicella Sento molto goffi Il motore Vola Sì Altre mine 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 Mi sembrano tipo Quei videogiochi Con la lamicella spaziale Ho visto Che devi evitare Mi ha proprio seccato Quelle cose che ti ha presi Sul naso Ok, ok Tanto non ha bisogno del naso No Mine, mine, mine Non ci sono più i suoni Allora, mi sa che deve andare un po' più con calma Mine 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 Ma va, non le vedo Bene Grazie per aver amato detto Allora La sessione è molto dura Passa lì in mezzo Vai Tranquil Dai che boss Allora, quindi Sta attento qua Dove sei? Mamma mia L'hai visto? Un pelo Un pelo Ecco Sì Sì Non finirò più di dire Dove vai? Dove sei accanto? Problem Problem Cos'è la città? No Oddio Come hai fatto a sopravvivere? Come? Non lo so Non lo so E questo che cos'è? Oddio Mine, mine, mine Everywhere Sì Scatta Ok, a posto Dentro quello Oddio Cosa? Non lo so Non mi chiedere Ce l'ho? Sì Come fai? Non lo so Ce l'hai? Non è vero? Non è vero Giro, giro Adesso sbocca tutta la sua anima Ok Siamo A posto Ah Ok Non rifacciamolo per favore Dai Non rifacciamolo per favore Dai Dai ce la facciamo Vedi che bordo che c'è aria Ellie ha inviato il suo SOS dall'interno Sì Dai Ma Quel timer che hai sulla schiena che cosa? Il timer è l'ossigeno mi sa Direi proprio che è l'ossigeno Ah ragazzi Direi di arrivare lì al punto e poi di stoppare il video Questo che abbiamo comunque già fatto abbastanza Abbiamo anche fatto questo è un nuovo capitolo Eee Bang Termesso Premi Scusi Benissimo Toc toc c'è qualcuno Sì ci sono i mostri Ci vediamo una mossa perché No aspetta possiamo aprire la porta Ecco magari se sai no Se l'ossigeno Magari Entriamo qui Ecco bravo Allora chiuditi magari così Depura l'aria Ragazzi dai Gamers Brothers Direi che è davvero tutto Ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti Ciao Ciao L'obiettivo di questo gioco è di attaccare la camera dei punti rovi Oh mio dio 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 Oh mio dio